Bentornati in questa nuova lezione della playlist di chimica in cui andiamo a parlare finalmente della nomenclatura. Oggi ci concentriamo maggiormente sui numeri di ossidazione, essenziali per capire come funziona la nomenclatura chimica. Vi consiglio prima di partire con questo argomento di riguardare bene le lezioni riguardanti la valenza e le strutture di Lewis e anche tutti quei video riguardanti i legami, soprattutto legame covalente, mi raccomando se no non si capisce nulla. Attenzione perché la nomenclatura comunque è uno degli argomenti un po' più ostici e che tra l'altro molti di voi mi hanno chiesto di affrontare, quindi ovviamente va seguita video per video, se no ci si perde pezzi, mi raccomando. Prima di iniziare però come sempre ringrazio chi già mi sostiene e invito tutti quelli a cui fossero utili i miei video, se potete sostenetemi perché sostenere il mio lavoro fa sì che io possa produrre sempre più video con una qualità sempre elevata. E così mi permette anche di essere utile a quante più persone possibile. E sapete che io sono felicissimo di aiutare tutti voi studenti e anche chi studente non lo è più e che magari vuole farsi semplicemente una cultura nel mondo scientifico. Detto questo, in descrizione trovate tutti i link, compresi anche quelli di Instagram e TikTok. Poi prima di partire con questa lezione mi riferisco a tutti voi che guardate i miei video e non vi iscrivete. Perché non vi iscrivete? Ci vuole nulla, cliccate su iscriviti, dai! Anche perché circa tre quarti, quindi più o meno il 75% delle persone che mi segue, poi non clicca su iscriviti. Però per me fa una grossa differenza, quindi dai, cliccate su iscriviti così vedete tutti i video precedenti, quelli successivi e se cliccate sulla campanellina, vi arriva anche una notifica quando pubblico un nuovo video. Quindi, dai, siamo tutti più amici così e partiamo con la lezione. Lezione di oggi, ovviamente, dicevamo sulla nomenclatura. Prima di iniziare la nomenclatura dobbiamo specificare, qua stiamo parlando di nomenclatura di chimica inorganica. Non che quella di chimica organica segua regole molto diverse. È gestita, diciamo così, dallo stesso ente che è la IUPAC. Ora andremo a vedere. Però bisogna fare una bella distinzione perché alcune regole sono diverse e soprattutto i composti sono molto diversi. Quindi, questa è nomenclatura di chimica inorganica. Ora, la nomenclatura di chimica inorganica, ma anche quella di organica, come dicevamo prima, è regolamentata da un'associazione internazionale. Questa associazione si chiama IUPAC, che è l'acronimo di International Union of Poor e Applied Chemistry. Scusate il mio inglese, ma questo è quello che è. Però ecco, quindi la IUPAC va a gestire tutta la nomenclatura chimica. Ora però c'è un piccolo problema, cioè se noi dovessimo semplicemente studiare la IUPAC sarebbe estremamente facile e nessuno di voi avrebbe problemi nel capire questo argomento. Ma siccome molti di voi effettivamente mi hanno richiesto di svolgere questo video, questo perché proprio la nomenclatura è uno degli argomenti meno compresi, soprattutto a scuola e non parliamo ancora di più all'università quando poi non viene studiata bene a scuola, devo anche dirvi che il problema più grosso della nomenclatura, cioè il motivo per cui è così complicata, è perché esiste una nomenclatura definita tradizionale o detta anche comune. Questo tipo di nomenclatura, come dice il nome, è tradizionale, cioè esiste da tanto tempo, mentre la IUPAC è diciamo una nomenclatura un pochino più nuova. Stiamo comunque parlando degli anni 50 e del 900, però in ogni caso la IUPAC va a basarsi anche su come è fatta una molecola. Capite bene però che ci sono alcune molecole che non sono state scoperte o non sono conosciute dagli anni 50, ma sono state scoperte all'inizio proprio dell'epoca umana. Pensate ad esempio ai metalli, pensate anche banalmente all'acqua. L'acqua la si conosce da sempre, di conseguenza non potremo cambiare il nome, come ad esempio il nome acqua, con un nome definito poi a tavolino molti anni dopo, anzi molti millenni dopo da quando la sostanza è stata scoperta e non dico neanche utilizzata perché è sempre stata utilizzata, persino dagli animali viene utilizzata. Di conseguenza ci sono alcune molecole che fanno parte della vita dell'essere umano da tempo in memore e di conseguenza l'essere umano ha dato dei nomi che poi a quel punto è molto difficile strappare dalle popolazioni che già ne fanno utilizzo. Dicevamo appunto l'acqua, l'acqua la possiamo chiamare idruro di ossigeno? No, penso che nessuno di voi l'abbia mai sentita chiamare in questo modo. Oppure qualcuno l'ha mai sentita chiamare ossido di idrogeno? O ossido di diidrogeno? Cioè con due idrogeni? No, penso neanche in questo modo. Questo perché effettivamente il nome tradizionale che è appunto acqua o water in inglese è appunto un nome che ormai è radicato nella cultura dell'essere umano ed è talmente tanto ben fisso nella nostra cultura che trovare un nome diverso sarebbe controproducente. Voi dovete immaginare che il motivo principale della nomenclatura è quello di far comunicare popolazioni diverse, un po' come le lingue. Cioè noi dobbiamo trovare una lingua chimica che ci permetta di comunicare con il nostro collega che si trova in Inghilterra o in Francia in modo da non avere confusione. Perché se io gli dico passami l'ossido di diidrogeno e questo non capisce che acqua, capite che diventa un bel problema. Pensate addirittura di più quando si tratta di commercio, cioè io devo comprare delle sostanze da un altro paese. È un bel casino. Pensate addirittura in Italia con tutti i dialetti che ci sono, quale problema potrebbe essere non trovare una nomenclatura comune? Altro esempio di nomenclatura tradizionale è anidride carbonica. Oggi si inizia già più a chiamare questa molecola biossido di carbonio. Avete presente? Si sente molto spesso il diossido o biossido di carbonio. O anche viene chiamata CO2, cioè proprio con la formula molecolare. Però sapete che il nome più comune alla fine è sempre anidride carbonica, che è un nome che non ci fa capire com'è fatta la molecola. Proprio per questi motivi la nomenclatura IUPAC ha deciso di accettare la nomenclatura tradizionale, o meglio alcuni nomi che sono stati dati con nomenclatura tradizionale. Di conseguenza noi andremo a vedere per ogni molecola sia la sua nomenclatura con IUPAC, sia la sua nomenclatura con il metodo tradizionale. Noterete che la nomenclatura IUPAC è molto semplice, non va quasi studiata, mentre invece è molto più complesso studiare le regole e soprattutto i nomi della nomenclatura tradizionale. Questo perché comunque la tradizionale ha delle regole che ci permettono di non studiare tutto a memoria, però qualcosina dobbiamo imparare a memoria, perché comunque nella nomenclatura tradizionale ci sono alcuni termini che non ci danno molti riferimenti su come è fatta la molecola, così come vi facciamo l'esempio prima il nome acqua. Capite bene che acqua l'abbiamo imparata a memoria, molto semplice da imparare a memoria, però ecco la nomenclatura tradizionale sarà il punto un po' più critico su tutto questo nostro argomento. Però non vi preoccupate, lo facciamo poco alla volta ed oggi dobbiamo partire con la definizione di numero di ossidazione. Il numero di ossidazione ci serve soprattutto nella nomenclatura tradizionale. Sarà poi anche utile per quanto riguarda la nomenclatura IUPAC, perché come vi ho detto poi comunque la IUPAC accetta una buona parte della nomenclatura tradizionale, e noi dobbiamo partire dal capire che cos'è il numero di ossidazione. E il numero di ossidazione rappresenta la carica che ogni atomo in una molecola o in uno ione poliatomico, e chi non sapesse che cos'è uno ione deve andarlo a rivedere sulla lezione riguardante l'atomo. E quando parliamo di ione poliatomica vuol dire semplicemente un ione formato da tanti atomi, quindi ad esempio SO4- la carica rappresenta proprio che è uno ione. Ecco quindi il numero di ossidazione e la carica che ogni atomo che si trova in una molecola assumerebbe se gli elettroni di legame fossero assegnati all'atomo più elettronegativo. E quindi una carica formale, teorica, cioè qua non stiamo parlando di una carica vera e propria, stiamo ipotizzando che in una molecola come H2O prenda gli elettroni solamente l'atomo più elettronegativo, nel caso di H2O è appunto l'ossigeno. Quindi immaginiamo che, per questo vi dicevo importantissimo il video sul legame covalente e sulla valenza. Immaginiamo che nella molecola di acqua H2O gli idrogeni mettono un elettrone in condivisione con l'ossigeno, che a sua volta ne mette due in condivisione, uno per ogni idrogeno. Capite bene che se dobbiamo assegnare la carica come se l'atomo più elettronegativo si prendesse tutti gli elettroni di legame, dobbiamo assegnare la carica negativa all'ossigeno, perché l'ossigeno va a prendersi, dobbiamo immaginare che vada a strappare i due elettroni dell'idrogeno. Due elettroni hanno carica negativa, quindi l'ossigeno possiamo dare come numero di ossidazione, cioè come carica formale, teorica, meno 2. Gli idrogeni, siccome hanno perso un elettrone a testa, quindi un meno a testa, dobbiamo dare come carica formale, cioè come numero di ossidazione ha quegli idrogeni, più 1. Ovviamente il numero di ossidazione può variare da molecola a molecola, non è detto che in ogni molecola determinati atomi prendano lo stesso numero di ossidazione. Come vedete nella tavola periodica qua sotto però ci sono alcuni atomi, come ad esempio il litio, il sodio, il magnesio, che hanno sostanzialmente solo un numero di ossidazione, quindi per loro sarà molto semplice capire come funziona. Guardiamo però nella parte di destra della tavola periodica, vedete che casino, vedete che ognuno di quegli elementi può prendere tanti numeri di ossidazione, è su quello che noi dovremmo concentrarci maggiormente. E allora possiamo dire che la formula chimica di un composto mostra ovviamente da quale elemento questo composto è formato. E gli indici numerici posizionati a pedice, attenzione cosa vuol dire a pedice, ve lo faccio vedere con il laser, guardate. A pedice vuol dire in basso, ad esempio qua NA2O, ossido di sodio. Vedete che qua in questo caso abbiamo dei numerini che ci vanno a indicare quanti atomi di quell'elemento ci sono in questa molecola. Ecco questi si chiamano numeri a pedice. Quindi gli indici numerici a pedice indicano quanti atomi di ogni elemento sono presenti nella molecola. E allora iniziamo a dare qualche regola per andare a nominare i composti. Prima ancora di guardare i numeri di ossidazione abbiamo dei composti molto semplici che li possiamo nominare in questo modo. Prima regola. Si scrive per primo il simbolo dell'elemento che a numero di ossidazione è più positivo. Quindi tra poco andiamo a vedere i numeri di ossidazione. Dobbiamo mettere a sinistra quello con il numero di ossidazione più positivo di tutti. Dico più positivo perché ovviamente potranno esserci vari elementi con numero di ossidazione positivo. Seconda regola. L'elemento più metallico, i cationi e gli atomi con numero di ossidazione positivo, si scrivono per prima a sinistra della formula. Poi dopo segue l'anione non metallico o poliatomico. Quindi noi abbiamo l'ione che è solitamente metallico con numero di ossidazione positivo a sinistra e a destra invece segniamo quelli che hanno numero di ossidazione via via meno positivo, anzi molto spesso negativo. E solitamente questi sono anioni non metallici. Ricordo catione, ione positivo, anione è solamente un sinonimo di ione negativo. Terza regola. Nei composti binari, cioè formati da due elementi soltanto, il numero di ossidazione del metallo diventa l'indice a pedice del non metallo e viceversa. Cioè possiamo vederlo qua, prendiamo sempre quindi l'ossido di disodio. Vediamo che il numero di ossidazione del sodio sarebbe più 1 e lo possiamo mettere a pedice dell'ossigeno. L'ossigeno ovviamente avendo 1 non gli viene messo nulla perché sapete che con l'1 si approssima semplicemente, si va a dare per scontato che ci sia un 1. Mentre siccome il numero di ossidazione del ossigeno è meno 2, lo mettiamo al posto del sodio, ovviamente sempre positivo. Questa regoletta poi la vediamo più in dettaglio anche più avanti. Quarta regola. Se i due indici della formula hanno un divisore comune, di solito si semplifica. Quindi ad esempio se io ho un indice a pedice 4 e nell'altro elemento ho 2, posso dividere tutto per 2. Quindi diventerà numero a pedice 2 e poi 1. Di conseguenza dobbiamo dividere tutto per il massimo comune divisore. Andando avanti possiamo vedere un esempio coi composti binari. Il nome di un composto binario si costruisce a partire da quello dell'elemento scritto a destra. Ovviamente per quanto riguarda l'inglese è diverso. Noi però, siccome studiamo la nomenclatura in italiano, dobbiamo in un elemento chiamato NaCl dire prima il cloro, quindi cloruro, e poi il sodio, cioè di sodio. Vediamo qua ossido, perché a destra c'è l'ossigeno, e poi di calcio, perché il calcio si trova a sinistra. Quindi in italiano si parte dall'elemento scritto a destra. Questo però, attenzione, solamente coi composti binari, che andiamo comunque a riprendere più avanti. La somma dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi presenti nella molecola comunque deve essere uguale a 0. E cioè se la molecola è neutra e non è uno ione, quindi non ha una carica elettrica, questa molecola deve avere come numero di ossidazione totale 0. Di conseguenza Na potrà avere più 1 Cl meno 1. E infatti vediamo anche nell'esempio sotto Ca2 più ossigeno meno 2. Ora vedremo meglio come si vanno a determinare i vari numeri di ossidazione. Mi serviva però darvi un'infarinatura generale, almeno per quanto riguarda i composti binari, per capire un attimino come andare poi a trovare i numeri di ossidazione, perché sennò faceva un discorso totalmente fuori da ogni contesto. Quindi abbiamo dato un contesto composti, formati in questo caso almeno da due elementi, andiamo a vedere poi come calcolare i numeri di ossidazione. Cioè qua ve li dava già l'immagine, noi dovremmo andarceli a trovare. E allora come andare a trovare i numeri di ossidazione dei vari elementi sulla tavola periodica? Innanzitutto se abbiamo la tavola periodica sotto mano già abbiamo comunque delle linee guida. Se non ce l'abbiamo dobbiamo totalmente rifarci a determinate regole. Ora andiamo a dare queste regole. In ogni caso sappiate che sulla tavola periodica comunque ci sono scritti tutti i numeri di ossidazione di un elemento, quindi noi dovremmo sceglierne poi uno. La tavola periodica ci serve solamente come controllo, ma noi dobbiamo comunque applicare queste regole. E allora le regole per dare il numero di ossidazione sono queste. Le andiamo a vedere una per una. Sappiate che molte di queste sono abbastanza fisse, io ora ve le dirò, e quindi per alcuni elementi sarà molto facile dare un numero di ossidazione. Regola numero 1. Gli atomi nelle sostanze elementari hanno sempre il numero di ossidazione zero. E cioè se io ho un composto come Cl2, che non è un composto, è un elemento, quindi abbiamo una molecola elementare, perché Cl2 è formata solamente dal cloro. E siccome nessun cloro può strappare gli elettroni all'altro cloro, cioè non possiamo assegnare gli elettroni all'atomo più elettronegativo, perché sono tutte e due ugualmente elettronegativi, questa molecola ha comunque il numero di ossidazione zero, perché è una molecola neutra nel suo complesso. Ma i due clori, i due Cl all'interno di questa molecola avranno comunque come numero di ossidazione zero. Quindi tutti i composti nel loro stato elementare, tutte le molecole nel loro stato elementare, hanno comunque il numero di ossidazione di tutti i loro atomi zero. Altro esempio, O2, cioè l'ossigeno elementare, i due ossigeni che compongono la molecola O2 hanno come numero di ossidazione zero. Seconda regola, il numero di ossidazione dell'ossigeno è meno due, quindi è quasi sempre meno due, tranne nei perossidi, in cui vale meno uno quando è legato al fluoro, il fluoro è l'atomo più elettronegativo dopo l'ossigeno, in cui in questo caso l'ossigeno prende il numero di ossidazione più due. Quindi dobbiamo tenere a mente che l'ossigeno è quasi sempre come numero di ossidazione meno due. Terza regola, il numero di ossidazione dell'idrogeno è più uno, quindi quasi sempre più uno. Fa una eccezione però quando andremo a vedere i composti chiamati idruri, in cui l'idrogeno ha meno uno, quindi solamente negli idruri l'idrogeno prende numero di ossidazione meno uno. In tutti gli altri composti, come ad esempio H2O, HCl, prende sempre più uno. Cosa sono gli idruri è quando l'idrogeno è legato a un metallo, lo vedete qua. LiH, CuH, in questo caso, tipo idruro di rame, ha numero di ossidazione meno uno. Quarta regola, gli ioni monoatomici hanno numero di ossidazione coincidente con la loro carica elettrica ovviamente, e cioè se noi abbiamo già uno ione, come Na+, il suo numero di ossidazione è proprio quel più, quindi più uno. Se noi abbiamo Fe3+, il suo numero di ossidazione, dato che gli elettroni li ha già persi in questo caso, sarà comunque più tre. Vedete? Corrisponde esattamente con la carica di quell'ione. E se invece abbiamo uno ione poliatomico? Ci spostiamo sulla regola numero 5, un ione poliatomico, come ad esempio OH-, ci dice che la somma dei numeri di ossidazione deve equivalere alla carica complessiva dell'ione. Quindi in OH-, la carica complessiva è meno uno, di conseguenza OH, la loro carica, se la sommiamo, deve dare per forza meno uno. Noi sappiamo che l'ossigeno ha sempre meno due, o quasi sempre, l'idrogeno ha sempre o quasi sempre più uno, meno due più uno effettivamente fa meno uno. Quindi vedete che comunque riscontriamo poi il numero di ossidazione che abbiamo trovato nelle altre regolette. Situazione un po' più complessa su altri ioni poliatomici come SO4-, ma per lo zolfo andiamo a vedere dopo. L'ossigeno ovviamente, avendo quasi sempre meno due, e quando è che non ha meno due, è solo quando abbiamo dei perossidi, ma se il nome della molecola non inizia con perossido, noi siamo tranquilli. Sapete che i perossidi li trovate in maniera molto molto rara negli esercizi. Quindi noi diamo per scontato che l'ossigeno abbia sempre meno due in questo caso. Meno due, quattro atomi con meno due fa meno otto, lo zolfo avrà più sei, perché il totale deve essere meno due. Vedete che meno due o due meno, che dir si voglia, la carica complessiva dell'ione poliatomico? Passiamo quindi alla regola numero 6. In una molecola e in un composto ionico, la somma del numero di ossidazione deve essere zero. Quindi se parliamo di molecola come H2O, o parliamo di un composto ionico come NaCl, quindi un composto che separatamente forma degli ioni, possiamo chiamarlo composto ionico perché i suoi atomi sono legati tramite legame ionico, però in ogni caso la sua molecola poi è neutra. NaCl, H2O, CO2, sono tutte molecole il cui loro numero di ossidazione complessivo deve essere zero. E quindi i numeri di ossidazione dei vari elementi dobbiamo stabilirli, prendendo però per assodato che il loro complessivo deve essere poi zero. Settima e ultima regola, in un legame covalente gli elettroni condivisi sono formalmente attribuiti all'atomo più elettronegativo. Questa cosa l'abbiamo già vista, se noi abbiamo un legame covalente tipo PCl3, gli elettroni devono essere formalmente, quindi teoricamente, assegnati al Cl. Quindi Cl3, ogni atomo di Cl si prende un elettrone, mentre il P avrà come numero di ossidazione più 3. E quindi andando a riassumere un po' rapidamente tutto quello che abbiamo visto fino adesso, vediamo questa tavola periodica con i numeri di ossidazione. Potete vedere che per quanto riguarda l'idrogeno possiamo avere più o meno 1. La maggior parte dei composti che troveremo avrà sempre più 1. Il primo e il secondo gruppo, quindi la prima e la seconda colonna della tavola periodica avranno più 1 rispettivamente la prima e più 2 la seconda. Vedete che questi sono numeri abbastanza fissi. Poi abbiamo una grossa zona di mezzo dove dovremo studiarli a memoria, purtroppo, mi dispiace, gli elementi di transizione sono da studiare a memoria. Abbiamo il terzo gruppo che invece avrà più 3 abbastanza fisso anche questo, siamo tranquilli su quello. E abbiamo poi un medio numero, diciamo così, di elementi sulla nostra destra che sono i non metalli che invece hanno un grande numero, una grande varietà di numeri di ossidazione. Abbiamo poi i gas nobili che non ce li hanno perché ovviamente loro non fanno legami. E allora andiamo a dare proprio molto rapidamente pochi esempi, diamo 3 esempi. H2O, molecola il cui complessivo come numero di ossidazione deve essere 0. E allora H sappiamo che prende sempre 1, l'ossigeno sempre meno 2. Abbiamo due atomi di idrogeno, quindi 2 per 1 fa 2, meno 2 che è il numero di ossidazione dell'ossigeno, ci dà 0. E in questo caso Na2SO4 che succede? Allora in questo caso comunque la molecola complessiva deve avere il numero di ossidazione 0. Sappiamo che il sodio prende per forza più 1, l'ossigeno prende sempre o quasi sempre meno 2. E quanto prende lo zolfo? Dobbiamo trovarcelo in questo caso. Il sodio, avendo più 1 ma essendoci due atomi, dobbiamo fare 2 per più 1. Mentre invece essendoci 4 atomi di ossigeno dobbiamo fare 4 per meno 2. Di conseguenza abbiamo che i sodi hanno come numeri di ossidazione più 2 in totale, gli ossigeni meno 8. E allora per avere 0, meno 8 più 2 ci avanza proprio più 6, che sarà il numero di ossidazione dell'ozolfo. E per quanto riguarda gli ioni poliatomici, Na3 meno, vedete che questo ione ha meno, quindi meno 1, dobbiamo dare come numero complessivo proprio questo meno 1. E allora per arrivare a meno 1 dobbiamo prendere l'ossigeno che comunque ha sempre meno 2. E meno 2 per 3, perché abbiamo tre atomi di ossigeno, fa proprio meno 6. E allora se poi dobbiamo andare a dire cosa aggiungere al meno 6 per avere meno 1, per forza di cose è più 5. In questo caso l'azoto prenderà più 5. Questi sono solo alcuni degli esempi che vi ho portato, non vi preoccupate, nei prossimi video porterò degli esercizi proprio a riguardo. Farò un video dedicato ai numeri di ossidazione con tutti gli esercizi necessari. Adesso però, dopo aver capito i numeri di ossidazione, possiamo iniziare con la nomenclatura. E inizierò solamente a dare le basi, mentre in due video successivi andremo a dare poi le varie regole per ogni gruppo di composti. Questo perché esistono dei composti denominati binari, cioè formati da due elementi, e composti ternari, cioè costituiti da tre elementi. Esistono poi anche composti quaternari, eccetera eccetera, però ovviamente dobbiamo vedere tutto piano piano. Iniziamo a saper nominare i binari, poi a comprendere come si nominano i ternari, e poi piano piano inizieremo a comprendere tutto il resto. La nomenclatura, come vedete nella tabella, si struttura su alcuni gruppi di composti. Questi gruppi sono stati scelti e sono stati elencati in base alla reattività che hanno determinati elementi con ossigeno, idrogeno o soprattutto con l'acqua. E infatti la classificazione dei composti inorganici si basa sulle loro proprietà chimiche, in particolare sulla natura metallica o non metallica, e per questo vi lascio guardare il video che ho già fatto sugli elementi, e sulla loro reattività con l'acqua o con l'ossigeno. Qui noi abbiamo vari composti che siamo andati a classificare in base proprio alla loro reattività o con l'acqua o con l'ossigeno, e lo vediamo pian piano. E quali sono queste classi di composti che andremo a vedere? Bene, innanzitutto partiamo dai sali binari, i più semplici. Vedremo poi gli idruri, poi successivamente gli idracidi. Vedremo poi gli ossidi che si dividono in ossidi acidi denominati anche anidridi e ossidi basici. Vedremo gli idrossidi, gli ossiacidi e alla fine quelli un po' più complessi che sono i sali ternari. Detto questo però, questo video è già abbastanza lungo, io mi fermo qua. Vi ringrazio per il sostegno che mi date, vi invito a lasciare like se il video vi è stato utile e iscrivervi al canale. Trovate in descrizione tutti i metodi per sostenere il mio lavoro. Io vi auguro buono studio e ci vediamo alla prossima lezione.